Come qualcuno ha scritto qua nei commenti siete curiosi in molti di vedere la prossima serie ma credo che voi vi siate concentrati solo su una delle nuove serie non avete ancora pensato alcuni di voi cosa uscirà dopo Prototype Attenzione perché molti di voi che seguono questo canale potrebbero avere delle belle sorprese Fate attenzione dalle 5 e mezza in poi ragazzi fate attenzione Grazie Grazie